Hola amigas e amigas, queridos e queridas, a todos e todas, ciao e benvenido a Sobregresso e al mio canale, il Lini Pop, un nuovo video più emozionante, dove Nati e Natascia muestran il lindo regalo che adesso con la femmina e sua famiglia ha sui cavi d'Isabelle e che le regala un lindo cavaggito, cavaggio, pequeño pony, cavaggio miniatura e qui si vede il lindo momento di Suika in shock, però sorprendida quando sta sopra il cavallo e di questa sorpresa molto linda e tutti sorriano e con la Suika le hicieron questa sorpresa e qui ovviamente tambien ora in seguida vanno a vedere il nome che erano a questo lindo regalo che mostrano a tutti i fans e Suika quedò molto sorprendida e quindi dopo questo regalo ovviamente dedicaron un post dove dicono che ovviamente si chiamava Bartolite e che ovviamente le esperava tambien a su papà che salga per che possa vedere come sta con questo cavallo lindo regalo di come le fu a visitarlo su Ika Vida Isabel e buono amigas e amigas a tutti e tutti che viste il video fino a qui, se ti ha piaciuto darle me gusta, like o commenta, se ti ha piaciuto, attiva la campanita e iscrivete al canale, così quando llegano i nuovi video e i nuovi videos, se seguite lo potete vedere qui. Ora nos vemos in un altro dia con un nuovo video aca, saludos quindi se tengano un lindo dia, un abrazo, ciao ciao ciao, nos vediamo alla prossima. ciao